Hola hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video video dei prodotti finiti del mese di dicembre che però ahimè questo mese non farò in collaborazione con la mia dolcissima Debbie tesoro ti mando un bacio immenso la mia dolcissima Debbie del canale Sproloqui di Deb perché questo mese ha saltato perché è un pochino acciaccatella non sta proprio in una forma fisica strepitosa, niente di grave però non ce la fa, mi ha detto Robby non ce la faccio vai vai, mi sento un pochetto orfana dell'amichetta mia, vabbè della mia collaboratrice procediamo con molta velocità cari ragazzi e ragazzi perché sapete i video dei prodotti finiti quello che riesce a smaltire All Life in Colors questo gloss mi sta appiccicando perché è vecchiotto aspettate, facciamo questo lavoro in diretta perché mi dà proprio fastidio, scusate non avevo voglia di mettere il rossetto perché vado un pochino acceleratina oggi però dovevo assolutamente registrare il video per riuscire poi a caricarlo perché ho una marea di prodotti da smaltire partiamo allora finite cominciamo subito bene finite le veline queste della Foxy sapete, insomma, prendo quelle che trovo queste le ho prese d'acqua e sapone il prezzo era molto conveniente mi sembra, se non dico una sciocchezza, sotto i 2 euro tra poco comincerò a sternudire perché c'è già polvere e buone, diciamo che sono in assoluto le migliori fra tutte quelle che ho provato fino ad ora prese d'acqua e sapone via poi, altre veline queste invece le ho prese da Eurospin della linea Soft Dream un abisso rispetto a quelle della Foxy sono comunque accettabili non mi interessa le utilizzo lo stesso però sono più sottili più dure, diciamo io le uso a mo' proprio di fazzoletti di carta tenuti sul tavolo in cucina visto che come sapete insomma, come mi vedete non faccio altro che perdere, insomma non scendiamo nel trash ok, finite pure queste sapete quello che trovo prendo terminata questa confezione di salviettine umidificate della linea questa è una linea che si chiama Baby Clean 72 Baby Wet Wipes speciale formula senza alcol PEG, parabeni e allergeni perfetta per la pelle dei neonati con camomilla, aloe e emollienti e provitamina B5 io vi volevo dare un inci eccolo qui se vi vuoi interessare a voi che siete un tantino fissate con l'inci care ragazze e guardate mi sono piaciute tantissimo queste le avevo prese al centro a Cobalot e devo dire che mi hanno soddisfatto sia per profumazione sia per umidificazione cioè sono rimaste bagnate dalla prima all'ultima e anche come consistenza ne contiene 72 appunto come avevo già detto e poi è molto carina la confezione molto fashion via anche lui anche esse anche loro poi terminato è finito mi è durato una marea di tempo io tra un po' entro nello schermo scusate mi è finito il bassamo concentrato attivo di Biofficina Toscana quello all'olio di oliva bio e alle proteine vegetali del fagiolo bacioello che mi era arrivato in una biobox una marea una marea scusate ricopongo il moncherino una marea di tempo fa è stato in assoluto è stato ed è in assoluto il miglior balsamo che io abbia mai provato sui miei capelli chi di voi non lo conoscesse fateci un pensierino non so nemmeno quanto costa sicuramente non costerà poco perché è un prodotto di Biofficina Toscana ma credetemi è una confezione da 200 ml ci ho fatto mesi mesi e mesi e voi vedete che ormai i miei capelli sono lunghissimi mi è piaciuto tanto 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 probabilmente lo riacquisterò prima o poi prima o poi sapete che io prendo random ma non vado in ordine poi ho terminato questo detergente intimo intensa dolcezza della marca Arcalia o Arcalia che dir si voglia di Pam della linea Pam e Panorama hanno aperto scusate moderiamoci scusate hanno aperto questo panorama vicino da me molto vicino da me finalmente e ci sono una mare suona il telefono mamma eh scusate a suocera scusate vabbè noi siamo un po' coloriti non è vero eh silenzio allora no ci dobbiamo andare in palestra abbiamo un sacco di cose da fare dai che questo video se no mi viene lungo una quaresima poi tanto ne facciamo i video insieme lasciale me sta lasciate me sta lasciate me sta allora questo detergente intimo vi dicevo di questa linea che è una linea senza parabeni qui c'è scritto e poi cessori senza parabeni parabeni cessori di formaldeide e guardate io vi lascio linci per chi fosse interessato questo tra l'altro l'ho terminato o questa mattina o ieri sera una cosa del genere allora il prodotto è buono non mi ha dato problemi di irritazione di nessun tipo di problema mi ha dato di prurito di brucioli eccetera eccetera l'unica cosa ha una consistenza gelosa gelatinosa ma molto densa quindi è un pochino difficile da gestire nella confezione quindi quando sono arrivata a poco meno di metà ho dovuto girarlo al contrario perché altrimenti bisognava fare questo lavoro per farlo venire fuori però al di là di questo mi è piaciuto tantissimo ok poi terminato perché no questo facciamo dopo terminato questa maxi terminata questa maxi confezione di gommage corpo rilassante di l'ovea naturale al 98% di origine naturale al 98% al sale del marmorto ai sali del marmorto questo gommage mi è piaciuto tanto 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 a parte l'odore che è veramente un odore marino buonissimo buonissimo l'ho anche mezza sciacquata in realtà non l'ho pulita più di tanto perché volevo che vi rendeste conto della consistenza anche questo ha una parte oleosa diciamo e una parte in grani eccolo qui questi grani giganteschi che non so se è zucchero di canna ma vorrei dire una sciocchezza è abbastanza oleoso per cui è un prodotto scusate mi pulisco è un prodotto favoloso giustamente io ho preso gli occhiali ma li ho lasciati di là sale di marmorto estratti di buccia d'arancia e sfoglia dolcemente buccia d'arancia dove sta qua il linci accipicchia accipicchia ah eccoli qua posso farveli vedere perché stanno tutti comunque guardate questo qui è sale del marmorto di lovea favoloso favoloso e tra l'altro vi lascia una pelle molto nutrita perché è un prodotto oleoso quindi è un prodotto ideale se avete la pelle secca in inverno io per esempio questo è un prodotto che in estate non potrei usare perché pur avendo la pelle del corpo che tende ad essere secca soprattutto con il passare degli anni d'estate non potrei tollerare di avere questo diciamo un po' di untume sulle gambe e io diciamo lo faccio lo scrubba principalmente gambe zona girovita girofianchi qui dietro diciamo nella zona in corrispondenza dei reni e poi sulle braccia qui non lo faccio perché la pelle è troppo sottile mi dà veramente fastidio e i grani sono talmente grossi che vi fa veramente un effetto grattugia ma credetemi è una cosa piacevolissima questo è un prodotto che mi sento di strapromuovere nel periodo invernale sicuramente e soprattutto se avete una pelle secca se avete una pelle grassa non mi sento di potervelo consigliare questo è un mio parere personalissimo perché appunto anche dopo che vi siete poi comunque docciate quindi usato il bagno schiuma e tutto vi lascia la pelle molto molto nutrita a me per il periodo invernale piace moltissimo al contrario di questo prodotto che invece mi sento e già avevo bocciato non mi ricordo credo in uno degli ultimi video dei prodotti bocciati di queste strisce depilatorie viso e bikini per pelli sensibili alla faccia dei pelli sensibili meno male di Geomar eccola qui questa maledetta maledettissima la confezione mi è durata una vita ragazze non finiva più al suo interno sono rimaste le salviettine post epilazione che sono a base di paraffina liquida ecco per chi non ci vedesse volesse vedere e io sinceramente no la paraffina sul corpo se posso evitare la evito le ho odiate le ho veramente odiate sulla mia pelle hanno avuto un effetto devastante e ogni volta io le ho utilizzate principalmente ed esclusivamente per i baffetti hanno avuto un effetto credetemi devastante ogni volta che le ho utilizzate che le utilizzavo poi dovevo andare lo faccio comunque ma dovevo andare di corsa con il gel d'aloe ma messo proprio in quantità copiosa e comunque tendevano poi a è come se mi portasse via un po' di pelle non so spiegarvi la striscetta quando la tiravo e quindi mi si arrossava e addirittura qualche volta mi ha fatto anche delle piccole crosticine quindi credetemi è un prodotto che non ricomprerò mai 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 più al mondo non mi sono piaciute terminato ho questo dentifricio della Neo Bio Natural Cosmetics che è una ditta tedesca tedesca made in Germany sì eccola qui e allora questo l'ho voluto in un acquisto che ho fatto mi sembra da cuccioli d'uomo e sì l'ultimo acquisto nel quale presi la tintura della Santè mi pare boh mi ricordo ce l'ho là ancora un pochina prima di tornare dalla mia parrucchiera e ho infilato dentro anche un dentifricio di questa marca che mi sembra di aver visto in internet è una nuova un nuovo brand di prodotti ecco bio anche se anche se non mi sembra di vedere alcuna certificazione può essere questa una certificazione no www Natur Organic può essere questa ditemi o voi che siete più questo è l'inci che siete più come si dice più ferrate di me in materia è vegano è un prodotto vegano in qualsiasi caso forse sarà il marchio del vegano e guardate non vi è dispiaciuto assolutamente è totalmente privo di profumo sa leggerissimamente c'è un vago sentore di menta proprio leggero leggero il colore è un colore cacchetta marroncino non so se riuscite a vedere più o meno di questo colore qui così e non mi è dispiaciuto però la consistenza era un pochino liquida per cui tendeva un pochino a perdersi sullo spazzolino io poi ho l'abitudine di bagnare lo spazzolino metto il dentifricio sopra ripasso velocemente sotto l'acqua lo spazzolino e poi vado in bocca e molto vado in bocca insomma e mi lavo i denti e qualche volta mi è capitato che il dentifricio se ne andasse via dallo spazzolino e colasse giù nel lavandino però non male e precisamente non male terminata neanche mi ci soffermo un'altra confezione di questo deodorante zen spray alla fumazione talco 0% alcol che trovo al Todis li prendo in offerta a 99 centesimi e li utilizziamo per per deodorare le scarpe terminato un altro deodorante spray questo è di Licia di Deo Nature senza sali di alluminio pelle libera di respirare e chi nasce è vitamina E che avevo preso in alternativa ai DAV ecco che utilizzano sempre mio marito e mio figlio perché erano in offerta d'acqua e sapone assolutamente no 100% di efficacia Licia in casa Colors 0% di efficacia tra l'altro l'odore è fortissimo è un odore floreale ma veramente forte che ricorda i deodoranti per gli ambienti che si utilizzano per casa e assolutamente senza sali di alluminio senza coloranti diciamo che il prodotto è un buon prodotto ma non copre le puzze e mio marito che non ha il sudore che assolutamente non puzza con questo puzzava quindi assolutamente no non lo riprenderò più poi terminato un altro detergente intimo che mi è piaciuto tantissimo abbiamo terminato tutti ovviamente di Intima Roberts il Derma Zero 0 coloranti alcol sapone parabeni questo qui eccolo qui in una confezione da 200 ml questo ci è piaciuto tanto 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 delicato vagamente ha un vago o un leggerissimo o un'algerissima profumazione che non disturba assolutamente sì vado a usare vabbè non mi importa e ci è piaciuto quindi se dovesse ricapitare lo riprenderei tranquillamente mamma mia quanti sossi prodotti terminato uno scrub per i piedi uno scrub di bottega verde lo scrub zucchero aloe vera callosità questo qui mamma mia mi sto strozzando perché mi sono lavata i denti prima di fare il video come spesso faccio e quindi ho la salivazione adesso che stai un pochino azzerata ma che ce frega come strozzerò morirò e ciccia forse qualcuna sarà anche contenta qui sul tubo non è vero ma non polemizziamo non polemizziamo scrub zucchero aloe vera callosità favoloso questo scrub mi piace mi è piaciuto tantissimo ne è avanzato proprio un goccino eccolo qui ha un profumo delizioso mi è piaciuto davvero tanto e scrubba da dio scrubba benissimo vi lascia i piedi setosi io non sono proprio costante infatti è un flagoncino insomma hanno una boccettina da 100 ml ma è durato mesi e mesi perché non ho la costanza non dico tutti i giorni ma anche tre volte a settimana di farmi lo scrub ai piedi non ce l'ho perché sono un po' così però vi dico che è un prodotto stupenderrimo mi è piaciuto tantissimo terminato questo detergente schiumaviso al neem purificante di Himalaya questo mi è piaciuto da morire lo troverete lo troverete ne ho fatto una recensione anche in un video apposito qualche video fa ho registrato qualche video fa ho sentito di pareri molto discordanti su questo prodotto qui è un prodotto senza parabeni SLS SLS e Ftalati per pelle normale e grassa vi dico che io non ho una pelle grassa diciamo una pelle mista tendente oramai un pochino al secco mi sono trovata benissimo mi è piaciuto tanto 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 è una mousse praticamente agitate e poi io agito non so se bisognasse fare così io agito e agitavo e niente me ne mettevo due o tre pompatine sulla mano e poi andavo a strofinare favoloso pelle di pesca io amo questi prodotti di Himalaya o più o meno quelli che ho testato fino ad ora terminata un'altra confezione dello shampoo Head & Shoulders sto andando ad eliminazione di tutti quelli che avevo questo era il sensitive la profumazione aloe vera profumo più delicato rispetto all'altro e lascia i capi cioè nel senso che è un prodotto che non ricomprerei perché mi diceva Christelle che la sua non so se la sua parrucchiera o addirittura una tricologa dalla quale si era rivolta lei tempo fa le aveva detto che non sono dei shampoo un pochino aggressivi che è meglio non acquistare io non so che dirvi diciamo sicuramente non li riacquisterò però l'effetto sui capelli sinceramente c'è lavano bene districano bene e lasciano i capelli morbidi poi terminato non so chi mi segue da tanto tempo vi ricordate quando vi feci un video haul non so se addirittura dal mare dei prodotti finiti o forse ve l'ho fatto appena tornata a casa non mi ricordo presi alla Lidl giù al mare giù in Calabria era uscita un'offerta una promozione su un prodotto un'edizione limitata di sapone liquido di quelli grassien che si trovano alla Lidl ed erano tre confezioni ne ho utilizzata una delle tre tra le mie miliardi di scorte che avevo ne ho utilizzata una questa è pera e mirabel plum che non riesco a capire ragazze mie che caspita le frutto sia se voi siete più brave di me ditemelo che mi era piaciuto che avevo preso con tanto amore perché erano tre confezioni una color lilla una rosa e poi c'era questa che era giallina un odore di pera favoloso buonissimo sembra veramente di mettersi in faccia o sulle mani una spremuta di pera molto 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 gradevole ma io adoro questi saponi della Sien e questo è terminato in una confezione da 500 ml era un'edizione limitata per cui all'epoca misi anche una fotina no mi sa che non l'ho detto in un video misi una fotina su Instagram yes adesso mi ricordo poi edizione limitata però chi di voi ce l'ha sappiate se non li avete ancora utilizzati che sono ottimi ne ho ancora due da utilizzare ho terminato questo latte ritergente biologico dei provenzali della linea bio dei provenzali appunto la linea bimbi protettivo extra dolce eccolo qui questo lo vi di tanto tempo fa in un video di Fede la mia Fede Loi e mi piace mi piace tantissimo la confezione perché mi sapeva di pupo poi io adoro il panda quindi l'ho voluto provare ci ho messo una vita a terminarlo perché non utilizzo in realtà più il latte ritergente per struccarmi il viso e quindi l'ho accantonato per tutta l'estate e poi l'ho tirato fuori intorno a settembre-ottobre è una confezione da 200 ml formula priva di tensioattivi qui c'è scritto e lo produce il saponificio Gianasso eccolo qui e l'ho utilizzato a mo' di sapone diciamo lo mettevo sulla mano ogni tanto e mi ci lavavo il viso e poi andavo a risciacquare il prodotto è buono è valido però non utilizzo più questa tipologia di prodotti per struccarli terminato un altro dentifricio questo è la Z3D White Luxe 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 protezione brillante e questo è quello che macchia lo spazzolino esatto colui eccolo qua buono buono non posso dire nulla la confezione è da 75 ml sono quelle un po' stiliche a Z le fa stiliche e costose le confezioni un buon dentifricio niente di che insomma senza infamie senza note invece vi devo parlare in maniera molto 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 positiva di questo detergente intimo extra puro salvia della linea sapone del Mugello pH 4.5 che ho trovato in offerta al centro arcobalò arcobaleno che è quello dove vado io da 4,60 euro a 2,90 euro e siccome di questa linea ne avevo viste tante recensioni in internet ho voluto provarlo questo appunto è un detergente intimo mi sono innamorata di questo prodotto e ho visto che da questo sapone c'è questa linea ma se non sbaglio mi sembra di non aver trovato però il sapone detergente intimo l'odore è un odore di salvia di quello sa insomma è un odore molto molto naturale e poco profumato però non puzza assolutamente sapete io sono particolare per le puzze ma l'abbiamo gradito tutti 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 in casa la confezione è da 250 ml anche qui vedete non parabeni no slest no sls no donatori di formaldeide non so cosa riuscirete a vedere fidatevi ce la fate yes ecco qua favoloso se vi capita prendetelo tranquillamente poi terminata una confezione di dischetti per lo strucco di acqua e sapone che non vi sto neanche a dire insomma i soliti dischetti poi terminata non poteva mancare ovviamente mamma mia che cesta che è uscito fuori qua terminato una confezione l'ennesima di struccante all'acqua di fiordaliso bio di Yves Rocher che è il mio struccante occhi per eccellenza preferito lo sapete non mi soffermo neanche su questo ne parlo in 1500 video o almeno in ogni video di fine mese e poi qualcosa deve essere uscito fuori ragazzi mie ho terminato questo prodotto qui aspettate che adesso cerco di ricomporre è da questo proprio uscito mannaggia questo gel fondente detergente struccante con vitamina E ed estratto di liquirizia anti età di bottega verde questo è favoloso ve ne ho parlato non mi ricordo in quale video questo è praticamente un gel che una volta inumidite il viso mettete un po' di gel sulle mani lo strofinate sul viso praticamente da gel diventa come un latte detergente praticamente esfoliante no fondente no esfoliante fondente detergente struccante scusatemi strucca benissimo io non ho struccato gli occhi ho struccato il viso ma è un prodotto che vi straconsiglio di provare qualora lo troviate in offerta sapete insomma che in bottega verde o si prende in offerta o questo cioè è un mio pensiero insomma non spenderei mai tutti quei soldi per dei prodotti che non sono neanche poi alla fine bio però mi è piaciuto tanto 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 non vi lascio l'inci o forse ci provo ma non so che cosa riuscirete a a vedere non credo che riuscirete a vedere molto ma pure sozzato tutto aspettate un attimo mannaggia sto video è lungo una guarissima poi dice se saranno pure lavati sticolors oppure no certo ci siamo lavati infatti abbiamo finito un solo bagno schiuma perché no diversi aperti in doccia in vasca ma un bel boccionazzo da 500 ml latte d'avena di angelica magari ce lo dici di angelica a latte d'avena i prodotti angelica sono dei prodotti che mi piacciono tantissimo ma davvero 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 tanto sia di shampoo che i bagno schiuma doccia schiuma che se volete leggere qualcosa così non mi stanco io allora questo in particolare al di là del fatto che è un ottimo prodotto e lava bene ammorbisce la pelle la lascia setosa fa una schiuma ricca e morbida tra tutti quelli che ho provato è quello con la profumazione meno non gradevole diciamo meno che mi ha colpito di meno ecco diciamo così però il prodotto validissimo poi ho terminato questa mini confezione da 10 salviettine umidificate al gusto vaniglia di Shaka Cristel e Silvietta e Paoletta Stoil vi ricordate queste le abbiamo prese da da chi? da OVS certo ce la posso fare da OVS mi piaceva molto il packaging così colorato sapete che io amo i colori e la profumazione gradevolissima mi è piaciuta ancora profumano queste le ho finito un bel po' di tempo fa ancora profumano ottime mi sono piaciute tanto niente di che salviettine umidificate però il packaging era molto molto sfizioso carine se mi dovesse ricapitare le potrei anche riprendere sto facendo la mia battaglia poi terminata l'acqua di menta rinfrescante di Anthos una confezione da 200 ml praticamente un tonico alla menta sicuramente più estivo che infatti avevo iniziato ad utilizzare diciamo a primavera tarda primavera ma che sono riuscita a terminare solo all'inizio del mese di dicembre infatti è stato uno dei primi prodotti che ho buttato nella bustina dei prodotti finiti allora questo prodotto qui sicuramente è un prodotto da utilizzare in estate perché è alla menta però un ottimo io l'ho usata a modo di tonico un ottimo tonico assolutamente mi lasciava la pelle fresca idratata però a parte che io di Anthos non amo il packaging perché lo trovo minimal troppo 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 spartano e purtroppo l'occhio vuole anche la l'occhio vuole la sua parte ragazze per cui il packaging di Anthos non mi non mi fanno gustare il prodotto come potrei gustarmelo con un packaging diverso non so se ho reso l'idea però al di là di questo è comunque una buona un buon tonico una buona acqua rinfrescante non tanto quanto pensassi essendo una o non tanto quanto pensavo fate voi in perfetto congiuntivo che ce frega perché essendo la menta pensavo fosse una cosina un pochino più che mi desse proprio una sferzata di energia e di soprattutto di freschezza non è stato così per cui è un prodotto che sicuramente non ricomprerei però il suo lavoro lo faceva anche abbastanza bene poi terminato il mio parodontax solito scusate se le confezioni fanno schifo ma io le tengo nel bicchierino che è puntualmente svuoto però tendono comunque a macchiarsi che vi devo dire ho purtroppo il bicchierino senza i fori adesso metterò all'opera il maridozzo per fare qualche butino vabbè parodontax è il solito classico sapete questa è la chiamiamola profumazione se si può dire profumazione del parodontax è la tipologia diciamo che preferisco questo con la striscetta rossa poi terminato questo campioncino della L'Oreal io non acquisto prodotti L'Oreal era in un giornale e l'ho utilizzato Total Repair 5 shampoo ricostituente 5 problemi una soluzione rinforzata procheratina capelli sciupati ci ho fatto un solo shampoo a lavato ecco non posso dirvi nient'altro ve l'ho messo per correttezza perché comunque è una cosa che ho terminato udite udite si alzino le bandiere sono riuscita a farmi una maschera yes ah no forse ne ho fatte anche due uno o due no una l'ho fatta sì due qua no una scusate niente di che ho fatto questa maschera della linea My Mask My Mask per tutti i tipi di pelle questa previene la formazione delle rughe elastina acido ialuronico olio di jojoba e vitamina ad azione antiossidante e tonicizzante questa mi è piaciuta questa l'ho fatta ne ho messa anche una fotina su instagram e certo non so diventata così questo proprio no questo proprio no però l'effetto rilassante distensivo si può dire comunque tensore quello che volete c'è stato mi è piaciuta molto presa da acqua e sapone se non dico una fesseria in offerta no da acqua e sapone l'ho presa questa si dovrebbe essere acqua e sapone ho terminato questa crema da giorno della linea idravita spf 15 di bottega verde eccola qui questa mi era stata data questo è un mini size da 20 ml che mi è durata una vita e mi era stata data da bottega verde per un ordine che avevo un ordine scusatemi un acquisto che avevo fatto a negozio e l'odore ottimo mi è piaciuta tantissimo una crema super idratante pensavo onestamente che fosse molto più leggera invece mi ha dato il giusto grado di idratazione nonostante la mia non sia più una pelle cioè pensavo fosse una pelle dedicata a pelli più giovani e invece devo dire che anche la mia pelaccia la vecchietta l'ha idratata benissimo mi è piaciuta molto 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 il profumo è abbastanza intenso può piacere e non piacere sicuramente ho terminato una confezioncina ebbene sì ogni tanto mi ricordo di levarmi i puntini di dal naso e mi hai chiamato scusate oddio ma se possono fare i video con il contaminuti il contasecondi allora ho terminato scusatemi dicevo tu registri sì ho terminato i cerottini quelli per il naso e mi trovo benissimo non ne ho mai provati degli altri quindi non ho termini di paragone mi sono fidata di quello che è stato detto in internet e li ho presi ed effettivamente non ho chissà quali schifezze da levare ma quelle che ci sono le leva per cui sono promossissimi poi sono costretta a gettare care ragazze e mi dispiace enormemente ma sapete che non mi vedete mai buttare nulla ma proprio non ne ho posso fare questi due prodotti questi due prodotti di Astra e sono due gloss gloss illuminanti Astra forever forever de che malimo come si dice vabbè allora questo è un colore fucsia sparaflash molto bello pieno di glitter questi risalgono diciamo anche a un bel po' di tempo fa ed era un gloss che diciamo sulle labbra non era neanche poi così male vedete questo colore vedete qual è il problema di questo gloss ecco qua così lo vedete ancora meglio praticamente il suo applicatore dopo un mese vogliamo parlare di un mese no secondo me anche prima questa è la fine che ha fatto l'applicatore ditemi voi se io posso usare una cosa del genere quindi ne avevo utilizzato sia no metà diciamo di questo più o meno addio per sempre flopissimo non acquisto più prodotti Astra da un bel po' perché non mi hanno delusa e la la difficoltà di questo invece dice perché dai via pure questo colore molto carino comincia vedete già anche questo scovolino come lo vogliamo chiamare insomma questo applicatore comincia a tirare su le puntine che è una cosa che mi fa innervosire e poi il colore non tiene non rimane all'interno delle labbra voi direte ma è un gloss sì però per esempio questo che sto utilizzando adesso che a furia di parlare me lo so magnato questo è di Debbie e vi straconsiglio i gloss di Debbie sono favolosi ciao addio per sempre non vi dico neanche i colori perché tanto è un prodotto per me ciofeca terminato un altro flaconcino di questi chiamiamoli balsami rigeneratori di capelli della Pantene Pro V ne ho diverse di queste confezioncine vi lascio i capelli morbidi in una maniera che non potete avere idea questa è una confezioncina da 15 15 si 15 ml ne ho diversi li vedrete nel corso dei tempi dei tempi insomma nel corso dei video poi ragazzi ve l'avevo detto che c'era una marea di roba ho terminato questo lip gloss di Kiko ne è rimasto anche se non sembra vi assicuro che non è rimasto moltissimo quel poco che c'è si è seccato è talmente vecchio che si è cancellato tutto nome e tutto questo l'ho amato alla follia ragazze alla follia ragazze ragazzi ha un profumo di caramello buonissimo ed era in questo color ambrato favoloso favoloso mi è piaciuto tantissimo terminato non vi so dire sinceramente e mi dovete scusare comunque la linea super gloss non vi so dire il colore è questo color caramello terminato mi è piaciuto tantissimo terminato l'i love stage di essence questo mi era stato regalato da una mia amica bellissima del tubo ciao tesoro grazie l'ho utilizzato fino alla fine fino a quello che si poteva utilizzare perché non esce più e quel poco che c'è è diventato calcestruzzo ma credetemi è veramente adesso voi non riuscirete a vederlo ma è veramente veramente poco quello che è rimasto vedete neanche si acchiappa più tra l'altro si è solidificato insomma per capirci e mi piace mi piace fa il suo lavoro costa poco è economico e lo adoro adoro devo gettare perché si è seccato ma era una ciofeca pazzesca questo smooth proof lip stain 16 ore di new york color di nyc il numero è il 494 smooth proof eccolo qua che era questa sorta di tinta labbra fatta proprio a forma di pennarello vedete una puzza di alcol da farvi svenire una cosa indecente indecente vedete lo scrive praticamente quasi più vedete ormai è disomogeneo adesso tra l'altro rimane poi vedete come si stende male è arrivato insomma il colore non c'è più l'ho utilizzato poco e a fatica una ciofeca di prodotto per fortuna ne volevo prendere pure di più fortuna che ne ho preso uno solo per me è stato un flop pazzesco questo prodotto ma voi non avete idea dell'odore di alcol che si sente quando aprite il tappo una cosa indecente sono costretta a gettare ma l'avevo utilizzato praticamente credo all'incirca non so se non posso vedere dentro però diciamo che esce abbastanza grumoso quindi presumo che questo prodotto di Kiko questo mascara pro gel mascara con pro lash with k2 pro lash che non so come si dice in inglese insomma questo gel da mettere rinforzante per le ciglia guardate non sono stata molto costante questo lo devo dire devo essere sincera però io questi effetti insomma non è che poi alla fine li abbia proprio visti so che ce n'è un altro di Kiko ricordate Fede se vedi questo video ricordamelo per favore poi semmai ti chiamo in privato mi è stato detto che c'è un gel per le ciglia di Kiko che fa effetti un effetto strepitoso a livello di rinforzo ciglia le mie ciglia sono molto deboli cari ragazzi poi siamo quasi in dirittura d'arrivo ho terminato il cancella età di Maybelline il correttore cancella età nella colorazione nude eccolo qui terminato favoloso fantastico fantasmagorico grazie amore per avermelo donato e c'è un altro ne ho iniziato donato sempre dalla mia amichetta che però che però nella stessa colorazione mi sembra che che lo indosso anche oggi mi sembra che sia un pochino più scuro rispetto a questo beh strapromosso ci piace tantissimo non ve lo devo neanche dire terminato il primer per occhi di Avon questo qui non so se ce ne siano altri tipi o sia solo questo qui c'è scritto light beige non so se ci sono altre colorazioni guardate ecco ne è rimasto in realtà un pochino ma puzza che non se ne può più conserverò la confezioncina perché è di vetro non si sente perché ovviamente non ho le unghie e tanto per fare una cosa nuova questo è inutilizzabile perché puzza e ho notato nelle ultime 6-7 applicazioni prima di decidere di di decidere di levarlo di mezzo che mi provocava anche prurito e rossore sulle palpebre ora avendo io gli occhi molto delicati non potevo assolutamente continuare ad utilizzarlo ma il suo lavoro alla fine lo faceva pure però alcuni ombretti mi andavano nelle pieghe quindi diciamo non è un promosso al 100% poi terminata eccola qui quello che rimane della mia famosissima ecco è rimasto solo il numero la numero 100 di Kiko la matita nera di Kiko la matita più più bella più meravigliosa che io abbia usato fino ad ora sui miei occhi produce effetti ottimi la uso all'interno dell'occhio la uso come eyeliner a me piace tantissimo è inutile cioè non riesco proprio più a temperarla e poi insomma voglio di basta basta non dobbiamo non buttare no ma manco essere pazzoidi e poi ultimo prodotto ah no penultimo prodotto ho terminato questa questo Kiko Soft Focus Concealer eccolo qui questo è nella colorazione 0-2 che mi era sempre stato gentilmente donato da una mia amichetta del tubo e sul tubo non del tubo e Pao 6 mesi io sono andata ben oltre i 6 mesi però è un prodotto che non mi ha dato per nulla soddisfazione perché mi andava completamente nelle pieghette nelle pieghette non è terminato del tutto ma essendo andata ben oltre l'anno di 6 mesi oltre il PAO diciamo non me la sono sentita avendo poi in questo periodo un po' di problemini con gli occhi ultimo poi ho finito giuro 38 minuti mai come sto mese ho terminato questo campioncino del quale poi scusate mi dica cosa di fondotinta di puro bio questo è nella colorazione 05 sto iniziando a girare dei video su dei test praticamente delle prove su strada chiamiamole di fondotinta di campioncini di fondotinta che ho avuto in diverso tempo insomma che mi danno come omaggio eccetera che mi arrivano nelle bio box ho deciso di utilizzarli in diretta con voi per darvi le prime impressioni appunto per darvi le prime impressioni sul primo utilizzo di questo poi ve ne parlerò nel video non vi dico nulla tanto è un video che arriverà a breve ok carrellata cascato tutto sta meravigli non vi faccio vedere la busta dentro perché è l'erciosa e c'è cascato c'è cascato c'è caduto pure uno scontrino di Dezenis pensate da quanto tempo gli devo dare una bella pubblica a sta busta io basta basta me ne vado me ne vado vi saluto vi rimando alla visione di questo video il prossimo mese e dei prossimi video che girerò sempre se qualora vorrete scusate le chiacchiere spero di non avervi ubriagate se così fosse vi chiedo scusa ma voi sapete che i miei prodotti finiti sono sempre una quantità immenso tanti baci tanti baci no venite come solo ma stra mega galattico però e vi saluto e chiudo qui ciao ciao